A presa avvio alle 7 di mattina come da rituale la lunga giornata di Giostra con il primo colpo di mortaio. Un giorno di festa per Arezzo scandito come sempre da una serie di appuntamenti imperdibili per gli appassionati di Giostra e dai 5 colpi di mortaio che accompagneranno sino all'entrata in Piazza Grande. I quattro quartieri questa sera si sfideranno per la lancia d'oro dedicata a Giuseppe Mancini. In ordine di estrazione Porta Santo Spirito, Porta Crucifera, Porta del Foro e Porta Santa Andrea manderanno sulla lizza turno i due giostratori con l'obiettivo di realizzare il maggior punteggio possibile. Ad aprire la giornata di Giostra come sempre la lettura del bando da parte dell'Araldo. Bando, gli onorevoli messeri, reggitori della nobilissima città di Arezzo, invitano tutti della città e del felicissimo contato, nobili e popoli, gente di lettere e di toia, mercadanti ed artieri di ogni arte al torneamento della Giostra del Saracino, che sarà corsa oggi due notti dopo ora ventunesima in Piazza Grande agli ordini del magnifico maestro di campo dai cavalieri dei quartieri contro un simulacro che finga tra gli soldani di Babilonia, d'Egitto o di Persia la figura di Buratto, re delle Indie, a confusione e ludibrio grandi di tutti gli infedeli nemici di cristianità e da maggior gloria ed onore del Divo Donato, patrono nostro e del contato, impetratore di grazie e benedizioni. Correranno i cavalieri degli quartieri di Porta Santo Spirito! di Porta Crucifera! di Porta del Foro! di Porta del Foro! di Porta Santo Andrèa! 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 di Porta Santo Andrèa!